Nel periodo estivo quella mia libertà cominciai a gestirla a modo mio. Ricordo che una sera avevamo a casa cena Dino Risi con entrambi i figli, Claudio e Marco. Claudio notò la mia smagna, la mia voglia di insinuarmi in qualche maniera in quel mondo. Mi disse, Gianmarco, guarda che è difficile che le cose accadano da sole. Se vuoi conquistarti qualcosa, devi prima di tutto imparare a rompere le scatole. Recepì il messaggio e quando seppi che avrebbe cominciato a lavorare al suo primo film chiamai proprio lui. Magari tira un po' le scatole, gli dissi, ma sei stato tu a dirmi che avrei dovuto? Perché non mi prendi come assistente volontario? Avevo ragione, proprio lui non poteva dirmi no e infatti mi prese. Fu quella chiamata a Claudio Risi ad avviare la catena degli eventi, una serie di opportunità che poi mi si presentarono una dietro l'altra. Quando Carlo Vanzina, molto amico di Claudio, venne a sapere che ogni tanto lavoravo con lui, che facevo l'assistente alla regia, un giorno mi chiamò e mi propose un ruolo in un suo film, Vacanze in America. Avevo 17 anni ed era il primo film che facevo senza Ugo. Poiché minorenne, quando iniziarono le riprese, sono dovuto partire per l'America con mia madre al seguito. Ugo non ne sapeva niente, assolutamente niente. Del resto non sapeva nulla nemmeno tre anni più tardi, quando nel 1987 stavamo girando a rivederci e grazie. Alla fine delle riprese, chiesi di poter andare via un po' prima e mi allontanai. Senza di nulla andai a fare un provino al centro Safa Palatino per un programma televisivo di Canale 5. Alla fine venni pure preso, col ruolo di conduttore del programma della domenica pomeriggio. Voleva dire che diventavo in fretta uno dei volti di Canale 5. Mi ritrovavo all'improvviso al fianco di Pipo Baudo, di Enrica Bonaccorti, di Marco Columbro, di Mike Buongiorno, di Sandra Raimondo. Inevitabilmente mi cascò addosso della popolarità. Una popolarità che per certi versi si poteva considerare anche un po' effimera. Temo che mio padre la considerasse esattamente così. Ed è così che voleva farla vedere anche a me. Poiché in fondo Gianmarco era uno che faceva l'assistente, però faceva anche l'attore quando capitava e poi faceva il conduttore alla televisione anche se non aveva alcuna esperienza e poi tornava a fare la serie televisiva e poi accettava di presentare Sanremo se solo glielo proponevano. Ma alla fine questo qui, che cosa vuole fare? Tutto questo un po' era vero, tutto quel che mi capitava, non so dire con quanta consapevolezza, lo prendevo al volo. E lui invece in quella fase cominciava improvvisamente a tenerci con i piedi per terra, a farci riflettere su ognuna delle opportunità che ci si presentavano. Ora, è chiaro che un ragazzo di 18 anni può anche perdere un po' la testa, se per caso è su tutti i giornali e se è il presentatore di Sanremo. Sinceramente non credo affatto che lui fosse preoccupato che il figlio potesse montarsi la testa o che avesse paura che la notorietà mi forviasse e non credo nemmeno che temesse lo sputtanamento se per caso qualcosa durante una di queste esperienze fosse andato storto. Lo confesso, quando nei confronti dei miei lavori manifestava prudenza o peggio diffidenza, spesso ho anche sospettato che fosse infastitito da quelle opportunità, solo perché non era stato lui a crearle, è come se si trovasse al cospetto del possibile avvio di una carriera, la mia, nella quale non era mai stato necessario il suo intervento. In realtà alcune occasioni mi erano capitate con un pizzico di fortuna, altre me le ero cercato con più accanimento. Resta il fatto che il bisogno di staccarmi, di diventare indipendente, stava prendendo forma. Alla domanda come l'hai comprata questa macchina nuova, come al solito coi soldi miei, ora potevo rispondere no, col cavolo, questa l'ho presa coi soldi che ho guadagnato io. È successo, è successo davvero. Un giorno mi vide con la BMW, nuova, sotto casa. Volete che un malato di mente come me non corresse a comprarne una appena intascati i soldi di Fininvest e di Sanremo? Ah, certo, cominciò lui, io lavoro e voi intanto spendete senza alcun controllo. Ma proprio per niente gli dissi, questa è mia, tutta mia, soldi tuoi qui non ce ne sono. Non credo di raccontare storie che non si siano vissute in tantissime famiglie, e ciascuna con le proprie caratteristiche. Si trattava di contrasti dovuti all'indipendenza di cui avevo bisogno e all'indipendenza che via via conquistavo davvero, contrasti dovuti a divergenze caratteriali, contrasti dovuti al mondo di un ragazzo che cresce, e a volte cresce molto in fretta, e il mondo di un genitore che teme di perderne il controllo. Il perché dei nostri conflitti era in fondo tutto qui, in quella distanza che a un tratto si creò e che poi iniziò a dilatarsi, una distanza che entrambi facevamo una gran fatica col mare, malgrado il bene profondo che ci univa.